Amici e amiche della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Valentina, questo è il mio canale tb6nids, benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già Oggi parleremo della tecnica rosimine, ovvero sembra ricamo ma non lo è Subito dopo la sigla Amici e amiche, eccoci a parlare di un video tecnico molto interessante secondo me Un tipo di lavorazione che potrebbe piacervi e potrebbe interessarvi In realtà è molto più semplice da lavorare piuttosto che da spiegare per cui durante il video vi farò vedere anche degli spezzoni per quanto riguarda la lavorazione di questa tecnica Ma se non mi seguite ancora sui vari altri social, facebook dove c'è il gruppo e anche la mia pagina Instagram dove pubblico cose in ogni momento della mia giornata, dei reel meravigliosi e delle foto splendide ultimamente Su TikTok, su Ravelry dove ci sono i miei pattern, insomma se non mi seguite provvedete perché dovete seguirvi dappertutto Mi farete davvero molto 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 contenta Se poi vi andasse di mettere anche un pollicione qua sotto mi farebbe molto 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 piacere Ma tanto so che chi lo vuole mettere lo mette, chi non lo vuole mettere perché pensa di farmi un dispetto Non lo mette comunque e quindi non ve lo ricorderò E andiamo subito al dunque Che cos'è la lavorazione rosimine? La lavorazione rosimine è una tecnica estone La tecnica, l'azione di eseguire questa tecnica si chiama proprio rosimine Mentre il capo finito con questa tecnica si chiama rositude Io mi scuso della pronuncia, non so se è realmente questa Faccio del mio meglio, per cui abbiate pazienza e semmai correggetemi Ma che cosa vuol dire la parola rosimine? La parola rosimine vuol dire una cosa del tipo decorare con le rose Perché le rose? Perché i motivi tradizionali estoni che vengono lavorati con questa tecnica Assomigliano vagamente a dei fiori, delle rose Per cui molto probabilmente deriva, la spiegazione è questa Cioè deriva da questa forma Questa tecnica viene tradizionalmente applicata soprattutto a guanti e calzini Però negli ultimi anni si è praticamente espansa su quasi tutti i capi d'abbigliamento Come si realizza questa tecnica? Innanzitutto bisogna usare almeno due filati, due colori di filati Possono essere uguali, della stessa categoria, diciamo dello stesso tipo Della stessa marca, ma di colori diversi Oppure si possono anche giocare sulle differenti texture E quindi usare dei filati diversi, ma più o meno dallo spessore simile Il primo colore è usato per creare la base Ovvero la maglia rasata sulla quale poi noi lavoreremo rosiminne Mentre per quanto riguarda la lavorazione rosiminne Noi prenderemo il secondo filato e lo metteremo in doppio Perché in doppio? Perché questo filato messo in doppio Risulta più tridimensionale e spicca La lavorazione viene meglio Detto in parole povere La lavorazione consiste di lavorare a maglia rasata Con il colore del fondo E intrappolare questi flott Questi fili del colore contrastante Che si intrappolano passandoli davanti e dietro il lavoro In maniera che creino un effetto che sembra un ricamo Ma in realtà è un lavoro che noi facciamo Proprio durante la creazione del capo stesso Ma ora basta parlare Lascio spazio alle clip che ho girato Per farvi vedere come si esegue la lavorazione rosiminne E noi ci vediamo dopo Ecco quindi un capo lavorato con la tecnica rosiminne La prima parte è lavorata con la tecnica su tutta la circonferenza Quindi motivi su tutta la circonferenza Mentre qui vediamo la lavorazione rosiminne a motivo singolo Ecco quindi il grafico che si può trovare come aiuto per la lavorazione Come tutti i motivi ho evidenziato in verde la ripetizione E invece qui nella parte superiore c'è il motivo singolo Che corrisponde Mi piace evidenziare il fatto che la lavorazione rosiminne È fatta in questo motivo Per cui con blocchi di colore con la lettera R Che contraddistingue i punti lavorati con tale tecnica Ecco quindi pronti per la lavorazione I nostri gomitoli di filato Come vi dicevo in precedenza Ho provveduto a doppiare il filo a contrasto Che useremo per fare la nostra lavorazione Procediamo quindi a lavorare rosiminne su tutta la circonferenza Prendiamo il nostro filo doppiato E vediamo come inserirlo all'interno del lavoro Non faremo altro che appoggiare il filo doppiato in mezzo alle maglie La codina va sul dietro E il filo che viene passato avanti e indietro come finto ricamo Lo portiamo sul davanti La codina quindi la infiliamo dentro il lavoro Ed ecco come effettuare la lavorazione Lavoriamo una maglia a diritto Prendiamo il filo doppiato e lo facciamo passare davanti al lavoro E lo incastriamo tra le maglie Lavorando la maglia successiva immediatamente a diritto E procediamo in questo modo Facendo passare il filo doppiato Avanti e indietro E praticamente incastrandolo tra le maglie Lavorando a diritto Come vedete è estremamente semplice E questo è il risultato Anche dietro si può vedere lo stesso risultato Ora continuiamo a lavorare in tondo Seguendo lo schema Lavorando rosi minne La cosa più importante è ogni tanto testare l'elasticità del tessuto Per vedere che sia abbastanza elastico Non potrà mai essere tanto elastico E' importante anche regolare la tensione dei fili Che passano dei famosi flott Per cui ogni tanto potrebbe essere necessario Anche darci una tiratina Come in questo caso Rivadisco il fatto che il lavoro Non potrà mai essere particolarmente elastico Perché i fili che passano Provocano una specie di tessuto Quindi dobbiamo tenerne conto All'interno della nostra progettazione Passiamo ora a vedere come lavorare Rosi minne il motivo singolo Noi lavoreremo solo il piccolo motivo Giusto per vedere come si lavora Posizioniamo quindi il nostro motivo In corrispondenza del gambo E lavoriamo a maglia rasata Fino al punto in cui il motivo incomincia E procederemo nello stesso modo Per cui qui dovremmo fare solamente Una maglia lavorata rosi minne Prendiamo il nostro filo Lo facciamo passare come prima Tra le maglie Lavoriamo la maglia a diritto E blocchiamo il filo Lavorando immediatamente dopo Una maglia di nuovo a diritto A questo punto noi dovremo lavorare Tutta la circonferenza Fino ad arrivare al punto prestabilito Il giro dopo Notiamo che il filo Che noi abbiamo passato con il rosi minne Si trova sulla sinistra Ora dobbiamo lavorare queste tre maglie Sempre a rosi minne Quindi cosa facciamo? Il filo è sulla sinistra Come facciamo a risolvere questo gap Questa cosa che non va? Intanto lavoriamo a maglia rasata Fino a raggiungere il punto In cui dovrebbe iniziare Il motivo delle tre maglie Lavorate rosi minne Dopodiché facciamo passare il filo Creando un grande cerchio Sul davanti del lavoro E facendolo passare Sempre tra le maglie A questo punto Lavoriamo le nostre tre maglie E facciamo passare i due fili passati E blocchiamo immediatamente dopo Come sempre A questo punto Regoliamo la tensione Tirando i due fili E magicamente avremo effettuato La lavorazione corretta E naturalmente avremo riportato Il filo Sulla parte destra del lavoro Per cui in posizione corretta Per continuare La nostra lavorazione Che avverrà Esattamente Come la lavorazione Precedente Per cui Passiamo tranquillamente Il nostro filo davanti Lavoriamo le nostre cinque maglie E facciamo passare il filo Di nuovo tra le maglie Bloccandolo immediatamente Lavorando una maglia Ecco qui E di nuovo Il filo è nella posizione Diciamo Sbagliata Siamo ritornati all'inizio del giro E quindi Vediamo di nuovo La manovra Arriviamo al punto Creiamo Questo grande cerchio Sul davanti Del lavoro Facciamo passare Il filo Tra le maglie Lavoriamo Lavoriamo le nostre tre maglie In questo caso A diritto Passiamo di nuovo Il filo Tra le maglie Lo blocchiamo E tiriamo Il filo Riportandolo Quindi Nella posizione Corretta E voilà Abbiamo terminato La nostra lavorazione Come vedete Non è assolutamente Difficile Anzi È piuttosto Semplice E come Molto spesso Succede È molto più facile Da lavorare Piuttosto Che da spiegare Anche il rovescio Vedete Questo è il rovescio Del motivo singolo E questo Dei motivi Lavorati Su tutta La circonferenza Bene Arrivati Alla fine Spero che sia Abbastanza Chiara Questa lavorazione Come avete visto Sarebbe stato Molto più difficile Da spiegare Piuttosto che Farvi vedere Esattamente Come funziona È molto molto semplice Ed è anche Molto intuitivo E si può usare Questa tecnica Per lavorare Tutti E per decorare Tutti i capi Lavorati in tondo Che magari Abbiamo qualche timore A lavorare Con altre tecniche Perché questa Si può applicare Veramente Dappertutto Oltretutto Detto fra noi Se un giorno Uno si dovesse Stuffare di questo Ricamo Non fa altro Che tagliare i fili Sfilarli In maniera Molto molto semplice E da un capo Monocolore Molto molto semplice Ma ora Smetto di parlare Corro a Sferruzzare Magari Un capo Rosimille E invito Anche voi A fare Altrettanto Esercitatevi Anche su questa Nuova tecnica Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao Ciao